ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it quest'oggi andremo avanti con il corso di introduzione ad adobe premiere 2019 e vedremo come utilizzare alcune funzioni molto utili della sequenza, della timeline di adobe premiere prima però vi ricordo il mio sito internet www.fabioambrosi.it sito dove troverete l'elenco di tutti i video tutorial di questo corso di introduzione a premiere e se avete voglia se vi siete persi qualche passaggio troverete anche articoli riassuntivi con sintetizzate un po' tutte le cose che ci stiamo dicendo in questi video tutorial se avete voglia e se non volete perdere i prossimi tutorial iscrivetevi al mio canale youtube e se vi fa piacere perché no mettete un like alla mia pagina facebook mi trovate come fabio ambrosi andiamo avanti e torniamo ad adobe premiere oggi parleremo di alcune funzioni utili per qualunque il montatore che lavora con premiere in particolar modo vedremo la funzione calamita che ci permette di agganciare meglio gli elementi della timeline l'uno all'altro vedremo lo strumento selezione collegata ne parleremo tra breve e parleremo un po' al volo una piccola introduzione sui marcatori cose molto importanti vedremo infine qualche funzioncina comoda e utile che si può attivare nel menu di opzioni della timeline di adobe premiere o come detto iniziamo dalla primo pulsante che vedremo quest'oggi questo qui che si chiama strumento calamita come dice la parola stessa è una funzione molto comoda che permette di attivare la calamita tra gli elementi multimediali presenti in una timeline di cosa stiamo parlando bene per capirlo lo spengo spengo questo elemento spengo l'elemento calamita e facciamo un esempio facciamo che io voglia avvicinare questo blocchettino che ho appena selezionato a quello precedente ok ci sono dei casi in cui il famoso tastino elimina salti non funziona come dovrebbe in casi in cui ci sono timeline particolarmente complicate e a spesso capita quando si lavora ad un progetto di dover avvicinare a mano gli elementi gli uni agli altri comunque di spostarli in maniera precisa bene lo strumento calamita ci aiuta a fare questo se io avessi lo strumento calamita spento come in questo caso e volessi avvicinare questo blocchettino selezionato a questo blocchettino subito precedente ecco vedete che potrei avere delle difficoltà a fare un lavoro preciso perché vedete rischierei o di non agganciarlo nella maniera corretta o di mangiare qualche fotogramma della clip adiacente lo strumento calamita ci aiuta invece ad essere precisi vedete che compare una barra nera una barra verticale nera che ci suggerisce il momento in cui la clip è agganciata alla clip precedente non soltanto le clip quando c'è lo strumento calamita attivato possono essere agganciate anche al nostro cursore temporale ecco ipotizziamo che io voglia portare una clip esattamente in questa posizione ok dove ho in questo momento il cursore temporale clicchiamo sulla clip selezionata con lo strumento calamita acceso chiaramente vedete che appena la clip si avvicina al cursore bam viene agganciata in automatico viene attratta come da un'invisibile forza ecco che ci permette in questo modo di essere molto precisi senza lo strumento calamita questo passaggio sarebbe sì possibile ma sicuramente molto più complicato e il rischio di errori molto più elevato utilizzando questi strumenti tipo lo strumento calamita che io comunque consiglio di mantenere sempre acceso tranne che in casi particolari questi strumenti ci aiutano ad essere appunto precisi e rapidi vediamo lo strumento successivo di cui parliamo quest'oggi lo strumento selezione collegata cosa vuol dire dunque fino ad oggi abbiamo parlato quando abbiamo parlato delle clip contemporaneamente sia della clip audio che della clip video facciamo un esempio cancelliamo tutto nella timeline e buttiamo via tutto portiamo in timeline una una clip che come potete vedere composta da una clip video ok e da una clip audio insieme queste due clip video e audio compongono il nostro elemento multimediale bene fino ad oggi abbiamo detto che quando clicchiamo su una clip sostanzialmente selezioniamo in un colpo solo sia il video che l'audio quindi spostando questa clip sposteremo contemporaneamente sia l'elemento video che l'elemento audio però ci sono dei momenti delle situazioni in cui vogliamo modificare soltanto non so l'elemento video piuttosto che l'elemento solo l'elemento audio ecco come poter sganciare il video dall'audio ecco con lo strumento selezione collegata quando lo strumento selezione collegata è attivo noi selezioniamo sempre solo sia l'elemento video che l'elemento audio del nostro oggetto multimediale quando lo strumento selezione collegata è spento come in questo caso io in questo momento ho spento lo strumento selezione collegata clicchiamo fuori per deselezionare tutto quando andrò a riselezionare vedrete che selezionerò o solo la componente video o solo la componente audio dell'elemento multimediale selezionato questo è molto comodo intanto perché per esempio posso eliminare la traccia audio vedete io ho selezionato solo la traccia audio premo canc sulla tastiera e ho tolto l'audio praticamente da questa da questa clip video viceversa ctrl z ecco ctrl z funziona sempre in premiere per tornare indietro di un passo se io volesse eliminare soltanto il video e mantenere l'audio può capitare che uno abbia questa esigenza basta selezionare la componente video con lo strumento selezione collegata disattivato ok premere canc e vedete che ho portato via la componente video del mio oggetto multimediale posso chiaramente trimmare un oggetto riducendone la durata in questo caso diciamo abbreviato soltanto la componente video di questo di questo oggetto multimediale posso modificare anche la componente audio in maniera autonoma ecco quando abbiamo finito la nostra lavorazione su questo oggetto multimediale posso riaccendere lo strumento selezione collegata ma è automaticamente quando andrò a cliccare a selezionare prenderò con un colpo solo sia il video che l'audio fino a qualche versione fa di premiere questa era un'operazione che era possibile fare tramite il menu contestuale della clip multimediale per esempio se io seleziono le clip insieme ok clicco col tasto destro del mouse e c'è la funzione scollega cliccando sulla funzione scollega con il menu contestuale che appare io ottengo sostanzialmente la stessa cosa ho disancorato il la componente video la componente audio per ricollegarle ecco le riseleziono tasto destro del mouse sulle clip collega e ho ricollegato sia l'audio che il video ecco tutto questo diciamo numero di clic è molto ridotto da questo semplice tastino che ci permette sostanzialmente di fare la stessa cosa sicuramente in molto molto meno tempo ok altra funzione comoda è la funzione dei marcatori o parleremo dei marcatori forse molto più avanti perché in realtà i marcatori sono molto utili soprattutto quando si prepara un un progetto che si vuole lavorare no per in fase di scelta delle clip da utilizzare è quello il momento in cui si fa un grande uso di marcatori per decidere quale punto della nostra clip ci interessa particolarmente però introduciamolo subito adesso così per i più curiosi è un elemento di divertimento in più se vogliamo il cosa a cosa serve come funziona lo strumento marcatore allora ipotizziamo che io mi trovi in questo punto della timeline esattamente a 30 secondi e 21 frame e io proprio in questo momento trovo qualcosa di interessante voglio mettere qualcosa in futuro non so per qualunque motivo io voglio ricordarmi di questo punto della timeline o senza selezionare niente in timeline quindi senza selezionare le clip o gli oggetti presenti nella nella nostra sequenza clicco sul bottone aggiungi marcatore guardate cosa succede vedete che in timeline è comparso un marcatore un marcatore che ci ricorderà in qualunque momento anche quando andrò a spostare le clip che io questo punto della timeline non lo considero importante per esempio quindi in qualunque momento mi ricorderò ma io quella clip la volevo esattamente a quel punto bene prendo le clip vedete che con lo strumento calamita acceso a proposito del discorso strumento calamita lo strumento calamita ci aiuta anche ad agganciare gli oggetti per esempio ai marcatori vedete questa linea nera che compare ci indica che ho agganciato esattamente l'inizio della clip che ho spostato esattamente dove c'è il marcatore dicevo quando fate questo lavoro volete mettere marcatori nella sequenza di premiere dovete assicurarvi di non avere selezionato niente perché se io selezionassi una un oggetto multimediale posizionarsi lo il cursore temporale in un punto qualsiasi del mio oggetto multimediale e premessi qui adesso il tasto aggiungi marcatore io andrei aggiungere un marcatore ma guardate bene ho aggiunto un marcatore nella clip che può anche essere utile no per esempio vogliamo ricordarci questo punto della clip ecco clicco con la clip selezionata sul bottone aggiungi marcatore ho aggiunto vedete questa è la clip originale ho aggiunto esattamente un marcatore questo punto corrisponde esattamente a questo punto questo per quanto riguarda i marcatori come si fa a rimuovere un marcatore molto semplice basta cliccare sopra al marcatore che vogliamo selezionare con il tasto sinistro del mouse cliccare con il tasto destro del mouse e andare a spuntare la voce cancella marcatore selezionato boom il marcatore è sparito stesso discorso per il marcatore presente nella nostra clip originale chiaramente nel monitor di anteprima selezioniamo il marcatore tasto destro del mouse cancella marcatore selezionato boom e il marcatore è andato via o ne parleremo meglio in un'altra lezione perché i marcatori possono essere veramente molto 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 utili quindi non vi preoccupate esercitatevi intanto con i marcatori seguendo quello che vi ho appena detto poi più avanti approfondiremo altre opzioni al volo che possiamo vedere su una sequenza di premiere riguardano la visualizzazione delle tracce che vuol dire noi siamo abituati almeno appena aprite premiere per la prima volta a lavorare con delle tracce molto vicine l'una all'altra ma ipotizziamo che io voglia vedere bene esattamente quello che sto facendo nella traccia v1 come posso fare o se prendete il vostro cursore il mouse sostanzialmente lo passate all'altezza dei numerini v1 v2 v3 eccetera vedete che tra i vari numerini il cursore cambia forma ok questo ci indica che noi possiamo cliccare con il tasto sinistro del mouse trascinare verso l'alto o verso il basso se state lavorando con l'audio e ingrandire in la nostra traccia questo non ha nulla a che vedere con il montaggio è solo una visualizzazione che vi serve quando lavorate stessa cosa per l'audio voglio ingrandire non solo la traccia a1 mi posiziono subito sotto la scritta a1 il cursore cambia di forma trascino verso il basso e vedete che io ho ingrandito la traccia a1 questo per l'audio è molto utile perché ci permette di vedere meglio vedete la forma d'onda che caratterizza il nostro segnale sonoro ok ma se volessi ripristinare la grandezza delle mie tracce a quella alla grandezza di default come devo fare bene questa chiave inglese ci indica che noi possiamo accedere a delle funzioni extra ok a delle opzioni della nostra della nostra sequenza clicco sopra la chiave inglese se guardate in basso c'è la la funzione riduci tutte le tracce la funzione riduci tutte le tracce boom ci riporta tutte le tracce alla grandezza minima che queste possono avere c'è anche chiaramente l'inverso espandi tutte le tracce boom e tutte le tracce vengono allargate contemporaneamente ma se io volessi per esempio ingrandire una traccia soltanto utilizzando il mouse e la tastiera senza andare qui e cliccare come posso fare bene ricordatevi che tenendo premuto il tasto alt sulla tastiera e ruotando la rotellina del mouse vedete potete fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima forse addirittura in meno tempo ancora ok è molto molto comoda questa cosa vedete io sto premendo il tasto alt della tastiera e sto ruotando la rotellina centrale del mouse ma se invece del tasto alt premessi il tasto shift o maiuscolo e ruotassi la rotellina del mouse ecco che in un colpo solo vado ad allargare o a stringere tutte le tracce video oppure vado ad allargare o a stringere tutte le tracce audio per adesso mi fermo vi dico solo un'ultimissima cosa un'opzione che può essere molto utile conoscere come vi ho detto prima ingrandendo una traccia audio si può vedere molto meglio questa che è la forma d'onda del nostro segnale sonoro ma se non vedete la forma d'onda perché magari non so avere smanettato avete combinato qualche cosa e non c'è la forma d'onda qui nella nostra nella nostra clip sonora come poterla visualizzare bene sempre dalla chiave inglese che compare qui nel menu della sequenza potete vedere l'opzione che si chiama mostra forma d'onda audio ok mostra forma d'onda audio se è accesa come in questo caso vediamo la forma d'onda chiaramente se è spenta la forma d'onda non c'è più per il momento ci fermiamo qui grazie per avermi seguito grazie 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 per i commenti che mi inviate ogni giorno sia qui su youtube che tramite il forum contatti del del mio sito internet vi ricordo www.fabioambrosi.it per vedere tutti gli articoli di queste lezioni che potete anche commentare se volete chiedere qualcosa possiamo interagire anche sul mio sito internet iscrivetevi al mio canale youtube per non perdere i video di prossima pubblicazione e venite a cercarmi su facebook cercate fabio ambrosi e mettete un like grazie mille al prossimo tutorial ciao